Comparto sicurezza sul piede di guerra per i tagli in arrivo, 600 milioni di euro che il maxi emendamento approvato ieri in serata al Senato ha messo nero su bianco. Tagli che si aggiungono ai tagli delle finanziarie degli ultimi due anni e che andranno a pesare sui mezzi a disposizione di polizia e vigili del fuoco, di carabinieri e guardie di finanza, per poi tradursi in minore sicurezza. E pensare che questo governo aveva vinto le elezioni proprio sul tema della difesa delle nostre città. Le principali sigle del settore sindacale dei comparti difesa e sicurezza incontrano il PD per mettere in comune strategie e proposte. Al governo chiediamo di essere conseguenziali, più impegni vengono assunti a livello internazionale bisogna stanziare le risorse adeguate. Noi siamo presenti in tutti i territori, partecipare a tutti i territori con un addestramento tale significa dare delle risorse adeguate. Ci sarà meno sicurezza per i cittadini e siccome in questo campo, soprattutto dal punto di vista delle indagini in materia di contrasto della criminalità organizzata, occorrono anni per ricostruire un sapere reale, attuale di come si muovono le organizzazioni mafiose, il Paese rischia di avere un ritardo enorme anche nello sviluppo. Questa dovrebbe essere una manovra che riguarda la crescita, senza sicurezza non ci può essere sviluppo e crescita. In realtà il governo fa una manovra depressiva anche dal punto di vista delle funzioni fondamentali dello Stato. Stiamo facendo una prima valutazione che è molto preoccupante. Sulla base di questa valutazione con il PD avvieremo una fase di iniziative centrali e territoriali, intanto per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi che il Paese sta correndo da questo punto di vista. E poi iniziative parlamentari e, come dire, nelle categorie perché si fermi questa tendenza a tagliare per la sicurezza e la legalità. Noi pensiamo che esistano dei principi rinunciabili nella vita dei cittadini italiani e dei servizi rinunciabili che lo Stato deve fornire. Così come lo sono la scuola e la sanità, dove noi abbiamo lottato contro i tagli e qualche piccola battaglia abbiamo vinto, e noi pensiamo che il diritto alla sicurezza debba prevedere da parte dello Stato, nel corso di manovre che tagliano i finanziamenti ai ministeri, un trattamento di favore. Non si può continuare a tagliare in questo settore e c'è una soluzione che noi avanzeremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e che porteremo nelle proposte che faremo per il nuovo governo del Paese. E la proposta è quella della riorganizzazione del sistema della sicurezza. Sullo sfondo c'è un Paese dove la lotta alla legalità è una priorità e dove ai tagli degli antilocali si aggiungono quelli alle forze dell'ordine che, scherza chi è la forza di farlo, si ritroveranno anche loro, come le aziende in crisi e le imprese soffocate dai debiti, a chiudere i battenti. Con quest'ennesimo colpo che si paventa di altri 600 milioni di euro, non ci rimane, a differenza di quello che diceva il ministro Maroni, che non avrebbe consentito il taglio di un solo centesimo perché la polizia si sarebbe fermata, oggi deve prendere atto che la polizia sarà arrestata dal suo governo e non potrà funzionare.